Vi do un comandamento e vi amiate l'interno, come dicono tutti. Da questo a tutti riconosceranno che siete felici. Maestro, dove, dove stai? Piede, dove io vado, come sempre, mi segui la ventana. Perché non posso seguirti ora, da non abbia rinunito. Tu darai l'altro aspetto. Certo signora, ovunque andrà, io ti seguirò, sono sempre la tua figlia. E in verità, non canterai gli altri, ma che tu non mi sappia l'immediato. Signora, se anche dovessi morire, io non ti ringrazio, ma... ma... mi riconoscerai. Si, ti ringrazio, ma... �i osecchò... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. è morto. è morto. che è morto. è morto. a tutti. 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 a tutti.